Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti di nuovo nel canale di OBSAML Oggi sarò io il vostro presentatore speciale Nella sfida di oggi verrà superato il record Cioè il maggior numero di straverse colpite in un singolo minuto Abbiamo OBSAML ovviamente Il pallone d'oro di Youtube in carica Hai detto record mondiale in un solo minuto? Caro Isaac mi sento pronto per questa sfida Non sono solo Qui abbiamo il detentore Di questo record ovvero OBSAMLUUM Eccolo OBSAMLUUM Il detentore del record su Youtube Italia Ragazzi record che è 7 travesse in un minuto Sì 7 travesse in un minuto Quindi oggi l'obiettivo è superare 7 Magari se riusciamo a fare 20 E vediamo se su Youtube Italia ci sarà qualcuno capace di superarci vi spiego brevemente come si svolgerà questa sfida avremo cinque tentativi a testa ok io contro home vediamo chi riuscirà a fare più attraverso in un minuto ebbene signori e signori siamo pronti con la prima sfida il primo sfida il detenutore di questo record 2 1 un minuto via bene home siamo a 15 secondi ok ragazzi home è riuscito a beccare tre traverse in un minuto però home questo era il primo round quindi te ne mancano altre 4 e ti puoi rifare e allora ragazzi ora sta a me i palloni sono pronti il raccattapalle anche sono pronto per battere questo Guinness World Jacket allora 3 2 1 vai vado parte qua la sfida di off samuel ricordiamo home ha beccato tre traverse nel primo turno qua samuel è ancora 0 palloni su raccattapalle veloci prima traversa 18 secondi seconda attenzione va avanti samuel eccolo qua 5 4 3 2 1 stop quota tre traverse tre traverse signori tosto eh non pensavi dopo un minuto è intenso eh pochi altro parti con la concezione che un minuto è pochissimo e ragazzi siamo al secondo turno tocca di nuovo a home ha fatto tre traverse prima come samuel come samuel esatto questa volta come te la vieni come te la vieni siamo a 4 3 2 1 vai home let's go 1 subito 1 2 2 in 3 secondi 3 attenzione uh vicinissima la quarta mamma mia che partenza per home clamorosa vediamo e la sto gufando già a 4 in 20 secondi bellissimo gol all'incrocio 5 5 per home in neanche 30 secondi 6 clamoroso 7 siamo a 30 secondi ora 8 8 10 secondi 2 1 e stop un fenomeno ebbene ragazzi home ha preso 8 traverse in un minuto superando il suo stesso record wow fratello mio dovrei fare molto molto meglio di quello che hai fatto perché hai preso 3 traverse e ne avrei bisogno di almeno 6 traverse in pivo 2 1 let's go parte subito samuel con 0 traverse ovviamente c'è isa con un po' in mezzo 1 bellissima traversa di samuel ancora rischia la seconda ancora una traversa 2 subito ballo ancora samuel 30 secondi ancora samuel clamoroso ancora samuel incredibile siamo a 4 5 6 traverse adesso mi ricordo bene siamo a 40 secondi ancora prova un'altra 3 2 1 e stop questo secondo tentativo è andato ho fatto 5-6 non ci ricordiamo bene però il var conferma sicuramente meglio di prima meglio di prima qualche passo avanti l'abbiamo fatto ancora meglio prima ragazzi ne avevamo fatti 8 pare di meglio di 8 non è facile ma neanche impossibile quindi ci proveremo difficile replicare quello che ha fatto prima ma mi smentisce subito con una traversa 2 quando ne becca 1 la seconda è scontata e siamo già a 3 in 14 secondi ha preso una buona partenza bella la palla siamo già a 4 in 22 secondi 5 in 25 secondi si avvicina il record Omar la precisione sta peccando un po' siamo a 40 secondi a 5 traverse lei l'ha presa a 6 traverse scusate mancano 16 secondi e può fare il record 7 mancano 10 secondi per beccare l'ottava mamma mia signori ragazzi è tosta con tutta serenità supererò il record e allora 3 2 1 si inizia questa sfida anche per Samuel Afie giocatore di promozione ha detto anche ne ha presa una e allora ci fidiamo una in 10 secondi non ha una buona media Samuele agitato ehi ci prova e mancano 10 secondi 2 1 e sto ho scollegato il cervello ragazzi mi sono infastidito nei primi che non mi sono venuti quello che non devi fare e ho sbagliato ok ragazzi altro tentativo abbiamo fatto 7 se non sbaglio non riuscendo a fare 8 vediamo di almeno pareggiare anzi no fare 9 e allora è tutto pronto per quest'ultimo turno di Onfra 3 2 1 si comincia vai On dai 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 facci vedere vediamo se ci delizierà subito con una traversa la sto chiamando ma non sta arrivando ragazzi fidatevi non è semplice questa challenge poi posso dire una roba che loro non sanno si ha fatto altri video prima pesanti sui calci no ma più che altro sapete cosa è che è mezzogiorno e oggi siamo al 9 agosto ok sotto al sole a mamma ultimo giro d'orologi ragazzi ultimo minuto e allora con il cronometro Gnabry sarà 3 2 1 via si parte il cronometro partito attenzione primo tiro e primo fuori secondo tiro bella questa traversa ok buona media si parte bene devi ingarrarne subito un'altra attenzione le lancette dell'orologio scorrono siamo a 13 secondi eccola un'altra seconda traversa 13 secondi attenzione buonissima media anzi a terza traversa attenzione e siamo a 30 secondi ora no molto vicino sempre più vicino quattro traverse mancano 25 secondi ma delle ore attenzione calma serve assolutamente la quinta mancano 10 secondi quinta traversa attenzione 4 3 2 1 5 traverse niente da fare ok ragazzi ultimo e definitivo tentativo per me ragazzi devo riuscire a battere almeno almeno il mio record di 6 allora ci siamo fra 3 3 1 il ruivo parte subito questa sfida con Samuel che becca subito a pria traversa calma e tranquillità è il segreto di questa sfida siamo già a 2 in 10 secondi è partito molto bene ohm sta lì in porta a far chissà cosa cira a cattapalle siamo terza traversa siamo adesso in questo momento a 30 secondi alla ricerca almeno della quarta il pallone ci sono mancano 15 secondi 3 2 1 eeeh stop aaaah e quindi signori 4 traverse questo video magnifico bellissimo si conclude qua record man delle traverse su youtube italia e youtube multiverso e omarabuma vi invitiamo a provare a batterlo fate anche voi un video in cui battete questo record e inviateci taggatici e inviateci ma spoiler non ce la farete io ti ringrazio immensamente per aver partecipato al mio video ah non c'è una traversa d'oro che ho vinto qualcosa aaaah la traversa d'oro olè organizzerò un bellissimo evento dove i più forti potranno partecipare la traversa d'oro aIC e lasciate lasciate un commento quassi tra i noi ci vediamo ad una prossima challenge ad un prossimo video mile al r commom mi hovene riso il can do non poi poi qui dettagli